Musica Gli ingredienti che ci servono sono 4 uova, 160 g di zucchero, 30 g di cacao amaro, 30 g di olio, 120 g di farina doppio zero. In una ciotola montiamo le uova con lo zucchero, fino a che non otteniamo un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo il cacao e l'olio a filo. Quindi uniamo la farina un po' alla volta, mescolando dal basso verso l'alto delicatamente. In modo da non smontare il composto, che in questo modo rimarrà sfumoso e morbido. A questo punto possiamo versare il composto, quello che ho utilizzato io qua, e di 22 cm di diametro. E forniamo a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Ingredienti per la nostra buonissima crema di ricotta invece sono 600 g di ricotta, preferibilmente fresca, 60 g di zucchero, la scorza di un limone, 30 g di gocce di cioccolato. Per preparare la crema basta mescolare tutti gli ingredienti insieme in una ciotola, fino a quando otteniamo un composto omogeneo. Dopo che la torta si è raffreddata, con un cucchiaio possiamo togliere la parte centrale, che non dovrà essere né troppo profonda e dovremmo lasciare circa 2 cm di bordo. Farciamo il centro della torta con la nostra deliziosa crema di ricotta. La torta che abbiamo appena tolta la possiamo sbriciolare e ricopriamo con la torta sbriciolata. Alla fine io ho pensato di decorarla semplicemente con delle gocce di cioccolato al centro. Ma adesso vediamola anche all'interno e come vedete è una torta molto soffice che può sembrare anche non farcita, ma invece quando la tagliamo scopriamo questa deliziosa crema. Spero tanto che proverete questa ricetta, intanto io vi ricordo di cliccare sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche sui miei nuovi video e io vi saluto. Ciao ciao!